Fronte in continua evoluzione per le banche venete. Dopo l'approvazione dell'assemblea di mercoledì scorso dell'azione di responsabilità verso i passati vertici di Veneto Banca, ora all'orizzonte si intravede la prossima direttiva del Fondo Atlante. Di là dal progetto di fusione, ora si parla con insistenza di un nuovo aumento di capitale, oltre all'accessione degli NPL, ovvero i crediti difficili per non dire impossibili da riscuotere. Aumento che ridurrà di fatto il valore delle azioni a danno dei tanti risparmiatori, già pesantemente colpiti dal crollo del valore del titolo, passato, bene ricordarlo, da poco meno di 40 euro a 10 centesimi. In questo mare di lacrime c'è però anche una speranza almeno per 70.000 dei 200.000 azionisti delle banche venete. Per loro si sarebbe innalzato il fondo di rimborso azioni da 400 a 600 milioni di euro. La prospettiva sarebbe di restituire ai risparmiatori bene che vada il 25 per cento del prezzo sottoscritto, vale a dire sulla media di 30 euro sarebbero rimborsati 7 euro e mezzo ad azione, comunque 750 volte il suo prezzo attuale. Altro fronte riguarda le aziende in attesa di vedersi dimezzare i fidi con la fusione, dopo averli già visti diminuire considerevolmente dopo il crollo delle azioni acquistate a garanzia degli stessi. Una mancanza di liquidità che potrebbe essere fatale per diverse imprese, alcune anche nomi storici della marca, una situazione che gli industriali tentano di arginare così. Stiamo collaborando e lavorando in modo da far sì che laddove ci siano delle situazioni da seguire le teniamo costantemente sotto controllo e cerchiamo di accompagnare le aziende affinché eventualmente possano trovare risposta presso altri istituti di credito.